e tu Andrea ciao Andrea HB9 Golf Charlie Echo hai messo il filo? si ho messo il filo, arrivo un po' più forte si arrivi più forte, un pochettino, bravo bravo mettiamo poi dopo il rapporto alo 80, CQ80, CQ80, CQ80 80m house, this is Switzerland Hotel Bravo 9, Hotel Fox Company, HB9 Golf Charlie Echo for the European QS2 qualcuno vuole entrare? over over Sì, Serafass, buon viaggio, ecco. HB9 Gold Charlie Echo Andrea Fox 25 XA Echo Sera Faire for the European QSU Anybody, anybody would like to join the Euronet? Alcuna volentrarre C'est un carré, c'est un carré Over, over Oui, oui, bonjour Thank my Quebec Papa, bonjour Fox 25 Mike, Quebec Papa Bonjour mon cher D'Artagnan, Jean-Marie Merci que tu m'as remplacé quand je n'étais pas là Magnifique, merci encore Jean-Marie Et on discutera ça après, on continue Alors IT, security, security, security 80 minutes, this is Switzerland Hotel Brabona, in Hotel Fox, Fort Leo and Company HB9 Gold Charlie Echo, Andrea, Fox 5 XA Echo, Serafin, Fox 5 Mike Quebec Papa, Jean-Marie Le QSU Européen Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Anybody, other, want to participate? Qualcun altro, want to participate? Over, over All right, security, security, security CQ, anti-meat out Lisi, super red Hotel Brabona, in Hotel Fox, Fort Leo and Company HB9, Gold Charlie Echo, Andrea, Fox 5 XA Echo, Serafin, Fox 5 Mike Quebec, Papa, Jean-Marie Con la QSU Européen Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait participer? Qualcun altro, want to participate? Anybody would like to join the new route? Over, over All right, security, security, security CQ, 80-meat out Lisi, Switzerland Hotel Brabona, in Hotel Fox, Fort Leo and Company HB9, Gold Charlie Echo, Andrea, Fox 5 XA Echo, Serafin, Fox 5 Mike, Quebec, Papa Jean-Marie, Paul UQ Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait participer? Qualcun altro, want to participate? Anybody would like to join the new route? It's over, over And I'm going to welcome Lionel Our video specialist Hello Lionel, thank you Thank you for being here Thank you for being active already on WhatsApp Thank you for making us a beautiful video Thank you Lionel And we continue the calls We have a few minutes All right, security, security Q80, CQ 80-meat out This is Switzerland Hotel Brabona, in Hotel Fox 5 Lehman & Company HB9, Gold Charlie Echo, Andrea, Fox 5 XA Echo, Serafin, Fox 5 Mike, Quebec, Papa Please repeat slowly Call is italicino one alfa mike novembre jammarie è che tu as compri io credo che c'è italy kilo 1 alfa mike novembre mi sembra del italia chilo 5 mm giusto il mio indica sicilio scudita di chilo 1 1 1 italia che uno alfa mike novembre ti mettiamo sulla lista questo come se europeo e vivere un po di pazienza se il numero quattro verrà il tuo turno grazie di essere venuto caro amico che mettiamo sulla lista abbiamo ancora due tre minuti per fare la lista allora il sicilio il sicilio il sicilio il sicilio il tibito di switzerland hotel bravo 9 hotel fox hotline company a benef colchandlie ecco andrea forse 5 x ray eco serrafin forse 5 mike quebec papa jeanne marie italy kilo 1 alfa mike novembre per cui il suo europeo è che qualcuno d'altro potrebbe participer qualcun altro potrebbe particolare anybody would like to join the universe over a while pericolare il suo Grazie a tutti 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 Buongiorno 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 Anny Buongiorno Grazie a tutti. 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 passato il microfono vero stazionario scusatemi comunque le condizioni ripeto di 16.000 e un filo 40 settembre di quadratore da paro scusatemi perché non posso parlare svegliare corea ripeto sono liguria andorra l'hanno fatta lunghissima scusatemi si è andata da tutti il capo 1 al ma in novembre sarà il qrx questo è lì grazie di essere venuto siamo qui tutti lunedì tutti venerdì su questa frequenza più o meno due o tre chilometri dipende dal qrm e se è sempre benvenuto ci mancano giusto appunto delle stazioni italiane questa mattina se l'unica stazione italiana ci fa piacere e questo è questo europeo mio nome giovanni cutiaco paesino vicino alla città di friburgo capitale del cantone che porta lo stesso nome si trasmetto con un'eco maicom inghiacciato in 7400 seguito da un amerito un'alfa lima 800 hotel 800 watt di uscita l'antena è un dipolo multibanda di rovesciata due braccio da 10 metri ballona 8 metri dal suolo e le braccia scendono a quattro metri microfono microfono dinamico della rail con la cazzola larga tutto qui e complimenti per la tua stazione arrivi qui il 9 più 15 9 più 20 un po di qsb ma resta pure ci fai piacere se resti gli amici ti daranno che daranno i rapporti grazie e io credo se ho capito bene e io mi vedrai poi se giusto ok continuiamo continui a vecchia claus delta chilo 9 victor ciauri grazie a tutti Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie per la partecipazione, la amici, che stai prendendo un 10 db, non so forte come usualmente, ma io copio, grazie a tutti, grazie a tutti, e continuiamo, continuiamo con Giuseppe, avanti Giuseppe. Il flottso rapido da Gorio, grazie a tutti i coriðoli, la dolore che stai prendendo un dolore e il perlito di som거, grazie per ven учirò. e non c'est pas fermo questo mattino io vi direi un buon giorno non c'è la température qui è di 8-9 degrè e di tutto mi sono tornata e io vi direi a vendredi se tutto va bene il ciò c'è il nostro abonnesse Oscar Novembre Bungo qui prende l'ongerio bye bye les amici a ton micro audio grazie mio caro Giuseppe la mamma si è stata come una bugia non mangiai più non mangiai più e io l'ai trovato una dizia di giorni non due setti e lì aveva ripriso aveva ripriso a mangiare ripriso a parlare e ciò mi ha dato un po' di coraggio io pensavo che l'allero ripriso ma finalmente è stata fatigua io penso che non vuole più vivere e poi con 98 lei ha fatto la vita e poi ha preferito all'allero in la pausa del Signore io spero che l'allero una vita migliore è stata fatigua la vita migliore è stata fatigua 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 anche per l'anima è stata fatigua mi ce può fare è stata fatigua è stato fatigua mi ha fatto fatigua dai e Claudio è un po' basso, come ti sei giustificato non puoi alzare troppo il tono di voce perché lì qualcuno dorme nel cuore affamiliare. D.K.9, Victor Charlie, buongiorno, Klaus, 4x9, 4x9, questa mattina, Klaus, capisci che sei morto e sei un'usuale shock. Ok, HB9.T, Giuseppe, buongiorno, Klaus, c'è più vento, 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 c'è mattina, ok, per la temperatura del 8.9, c'è molto, ho 13 degrés qui, in la vallée. Quattro, 5, NN, Gulp, Denis, bonjour, plus, 10, I think I'm not, 10, 10. Enfam, Mike, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4x8, 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 this morning. I think it's all the report, I might back to you, Giovanni. HB9, HB3, 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 HB3. Ré, merci, Moshè, Renzo, dei picchi a 25, HB9, HB3, dove sei, attesa tu, Al? Sì, sì, sono a casa e vado col filo corto, è incredibile, buon segnale. sì assolutamente picchi di venticinque c'è il numero uno del hit parade con jean marie con giuseppe ok on continuo on continuo avec la regione parisienne foxtrot 5 novembre novembre le golfe à l'avant de ligny oui merci j'ai réveillé bien mais je te présente de joie mais qu'on en les condoléances du rallye et puis voilà on a parlé un petit peu donc j'ai attention à toi prends soin de toi dans ces moments difficiles et puis on va le penser pour ta maman donc bonjour à tous ici foxtrot 5 novembre novembre golfe de ligny le cth s'appelle ville fin c'est dans le département 93 à 20 km au nord-est de roi de paris par exemple capitale de la france et à 5 km à proximité de l'aéroport de roissy char de gaulle alors pour toi giovanni tu es 59 plus de 25 sur il ya vraiment une augmentation par rapport aux derniers plus taux c'est vraiment ça marche très bien sur toi dans vraiment d'excellentes conditions donc tout va très bien avec en vrai je vais s'abler également terrafin 73 florida 5 et du frayco c'est du 59 plus 20 ici voilà donc c'est vraiment impeccable la france semble vraiment très bonne voilà pour toi jean marie 73 bien content que t'entends également ce matin oui j'ai fait quelques petites infidélités du réveil qui a sonné mais pas le bonheur mais c'est pas le voilà donc à 5ème culte et jean marie tu l'as plus d'un également je vais terminer lionel donc qui est avec nous voilà donc toujours avec ces belles vidéos j'ai bien entendu il fait une filo 1 à 5 m le roi nord j'ai compris le prénom alors vu le exemple qui parle français lionel j'en suis pas plus alors en tout cas et vous c'est 50 plus 5 ici au région parisienne donc 73 et vous il y a 59 plus 5 2 to 10 on the on the system is very good and i have no no any trouble any any trouble to understand your modulation is very clear uh very pleased to meet you this morning uh unfortunately you are watching now your modulation is very weak uh it's quite quite difficult to uh to copy you you are 4-6 4-7 but uh too close for the night mail and you have to copy you from your station ah j'ai celui du zepé qui se trouve hb9 15 novembre tango 73 du zepé bien bonne continuation bonne journée tu étais plus 15 du zepé hein voilà comme d'habitude ça marche bien renzo hb3 yankee romeo zulu 73 renzo bien content de s'entendre ce matin également c'est un peu plus petit que d'habitude c'est plus 5 ici en région parisienne et j'ai soupçonné on va dire henry mike 0 0 alpha echo c'est un des fruits ben henry i don't know if you hear me but it's too weak your modulation is very low for me and uh i have some trouble to understand you uh voilà pour la petite histoire de ce premier tour donc je te refais l'antenne je vais pas le faire trop long je vais vous juste donner la température 12 degrés ici voilà il pleut un petit peu voilà hb2 hsl le groupe 535 le rome le rome vals à écoute oui merci denis très bon signal de pointe à 20 à 50 à 50 plus 20 denis merci pour tes paroles d'amitié aussi des condoléances on a déjà aussi discuté hier et c'est toujours un choc comme j'ai dit mais les amis sont toujours en soutien aussi l'amitié est beaucoup pour l'avenir et puis la vie continue son signal est de 20 à 50 plus 20 et puis on continue avec henry united the kingdom mike 0 0 alpha echo please henry Grazie a tutti. 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 al principio Giovanni è sempre 25 anni, un spennaccio di golpes e scurri, è più 10 anni, ancora un secondo, e 5 anni, grazie a tutti, con qualche puntata 15, questa volta, e quando è venuto Helio, è più 20, non mi sono mai trompera la politica italiana, che fa 20 il è il è il è il è il è 15 un rapporto 5. E noi, voilà, all'estepere, vanché fel, 5 ma che bec papa. Oui, très bien, mon cher Jean-Marie di le tarpe saignan, fin le cheval, che de pointe a 25, toujours, excellente modulation. Voilà, merci d'être là, encore une fois, merci d'avoir géré le QSO, et on continue, on va voir si Elvio et de nouveau là, et encore qui, enzio avanti, si, sono ancora qui, però preferisco restare in QAX, et vous avez dit, tout le monde très bien, et des et bien plus, et sur le monde, et sur le monde, et sur le monde, et sur le monde, et sur le monde très très bien, et, je suis en vacances, à Côté-la-Marie, en Liguria, en Dora, à Côté-la-Marie, à Côté-la-Marie, 1, à Côté-la-Marie, en Dora, à Côté-la-Marie, Elvio, à Côté-la-Marie, à Côté-la-Marie, à Côté-la-Marie, à Côté-la-Marie, et après, un jour, moi, je vais 71, le 2 octobre, voilà, d'être en pleine forme, comme ces jours. Alors, je suis à Côté-la-Marie, qui me prévendent quand même, 73, et à la prochaine. Bye-bye, les amis. à Côté-la-Marie, à Côté-la-Marie, à Côté-la-Marie, et merci d'être venu, tu viennes quand tu peux, c'est toujours un plaisir. Magari, tu voulons à Zoffingen. Avanti, en avant-veni, 45 novembre, novembre golf. Oui, merci, Giovanni. Je vais saluer Renzo, je crois, Greg Hazel. Bonne journée, bonne semaine, Renzo, et au plaisir de pouvoir te récouter prochainement. Donc, oui, moi aussi, je l'ai félicité et il faut bien donner les félicitations si je peux me permettre à Andréa. HV9 Golf Charlie Econ, c'est du plus 10 pour Andréa. C'est vrai que le bon audio et en, comment dire, en filial est vraiment impressionnant. Là, je n'ai même plus besoin de tendre l'oreille de toi que ce soit, c'est comme s'il sortait du haut-parleur Andréa. Donc, bravo, ça marche très bien. La modification a été vraiment, comment dire, positive. Pour LBO, LBO, ben, oui, c'est bizarre, ça a commencé à 59 plus 5 tout à l'heure et ça a fini à plus 15. Maintenant, c'est 59 plus 15. et ça a été très bien. j'ai parlé de l'autre et lentement. En tout cas, je n'ai pas d'inquiétude pour le français, c'est très bien. Pour le français, pour moi, c'est très bien. C'est certainement mille fois mieux que mon parler italien. Voilà, le TAC et POP, pour moi, c'est impeccable. pour LBO, alors, il parle français, je crois, depuis Mike, 0, ZOO, Alpha ECO. Oui, eh bien, c'était parfait sur le tour précédent, 58, 59 au niveau du signal, la modulation affectable. Donc, j'ai compris la totalité de ton message. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le début que tu es tout le matin, un coup de propage ou ça s'est amélioré ou chez moi, je ne sais pas. En tout cas, ça passe 58, 59, il n'y a pas de souci pour te copier du coup la grille ici à proximité de Paris. Et pour ceux qui le connaissent peu, j'utilise ici un ECOB Pro 3 avec sa puissance dédiée. Donc, une 4W normalement dans le poste, une antenne juste interdée et un micro ICOM SM20. Voilà. Sur cette antenne, Giovanni S.V. HFL, le groupe Fox Fastage Novembre Novembre Goal. Oui, merci beaucoup mon cher Denis, toujours excellent signal des pointes vertes, stable. Et on continue, we continue with United Kingdom from Mike Zero, Zero Alpha Echo. Please, Henry. Oui. Merci. Sous-titrage 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 collegio da otto anni a 15 anni QSL? Ah sì sì sì, io ho fatto a scuola lì vicino alle medie, via Biella, ho fatto a scuola di disegno eccetera eccetera, vabbè comunque aveva tutto il suo disegno, conosco molto bene, sì sì, la mia moglie andava a scuola lì quando era elementare, scusami se hai ragione ma non sono sicuro. Eh il mondo è piccolo, io ho fatto giusto appunto sette anni per i salisiani di Don Bosco a Maria Osiliatrice lì a Valdocco, ero in collegio, periodo abbastanza duro ma mi è servito per la vita dopo. Ok Edio, grazie di essere venuto, tanta salute, tanta pace, tanta serenità e spero sentirti presto, vieni qui su questa frequenza, siamo qui tutti lunedì, tutti i venerdì a partire dalle 5 e mezza locali fino verso le 6 e mezza. Un abbraccio, un abbraccio, Edio presto, ciao ciao, e un continuo, e continuo, Klaus is gone, Giuseppe is gone, Reis is gone, vieni per le salutation. Non c'è a sing Laurent ? Non c'è pour Henri, moi je ai donné la salutation normalement mais je peux la re-rerse. Et puis j'ai vu le Il Rodillo c'est bon, ma happy hope, c'est bon La moto et le kitesurf ça c'est like Un Henry de France Murillo Je me suis débarrassé d'업ilessor Grazie a tutti per te belle parole, per la tua amici, per le condolioni e poi a te anche una buona settimana. Grazie a tutti per te anche, è un piacere di s'escoltare, vendredi prossimo. E io passare il microfono a Enri per il saluto. Por favori Enri, go ahead. Grazie a tutti, Enri. Grazie per la partecipazione, per la amici, buona settimana, all the best to you and the family. Ciao, ciao Enri, mio amico. Qualcuno vuole dire hello to the friends? Qualcuno vuole ancora salutare gli amici? Quelqu'un vuole ancora salutare gli amici? Avanti. Ok, apparemment io sono solo. Allora, io vorrei ringerciare tutti i partecipanti di questo eccellente QSO. Ringerciare anche le SWL, Claudia, Lionel e Patrick. Ringerciare l'HB9, Charlie, Yankee, Foxworth, Nicola, HB9, Bravo, Québec, Papa, Eugène, HB9, Econ, Papa, Charlie, Christian. Ringerciare l'HB9, tutti i amici, tutti i amici, tutti i amici, tutti i amici, tutti i amici. Ciao, ciao.